Noc ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale oggi ci troviamo in una nuova gara una nuova gara particolare ragazzi oggi ho scelto un parkour un parkour con le panto da portare siamo in pochi come avete visto nella lista però va bene fa niente corremo uguale vediamo di arrivare primi pure se siamo pochi questi sono i partecipanti speriamo che saranno tutti corretti raga speriamo che saranno tutti corretti al limite io do qualche sportellata pure io sti cazzi quindi niente partiamo ragazzi partiamo per questa stunt questa gara con le panto questo parkour con le panto e c'ho la mia pantina personalizzata tutta rosa ragazzi e andiamo andiamo a vedere che cazzo ci propone questo qui con sta gara allora vediamo vediamo beh per ora tutto a posto per ora tutto a posto però già che si chiama un parkour quindi suppongo che non sia vabbè questa qui è stata una svista vediamo un attimino come va la prossima vediamo eh beh ecco guarda se mi di sportella un'altra volta comincio a sportellare pure io eh mi hanno rotti i coglioni mi hanno rotto già ancora non ho cominciato e vai e tre non c'è due senza tre vediamo se riusciamo a farla sta gara allora ripartiamo famo partizzo vai vai bottarella vaffan e che fai chi di bottarella ferisce di bottarella ferisce ragazzi mi hanno dato pure a me una botta e vediamo vediamo se riusciamo andare avanti levati dal cazzo che devo passare levati dal cazzo vaffanculo di sotto guarda guarda voce come sono contento sei cascato che spettacolo e andiamo avanti a massa oddio devo dir che non è molto difficile almeno fino qui qui ci hanno me stato tutto a czzo dei cane però va bene dai vediamo 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 non sono arrivato ragazzi non sono arrivato però il checkpoint l'ho preso uguale forse i misteri sembra che il checkpoint l'ho preso uguale quindi botta de culo grande botta de culo che cazzo è qui? vedi i versi invisibili guardate che cazzo si è inventato questo guardate che si è inventato qui me c'è un pogno ve lo dico in anticipo sicuro me c'è un pogno proprio infatti me c'è sonfognato respawniamo vediamo un attimino riproviamo certo però la potevo scegliere un po' meglio sinceramente però ho visto parkour con le pant ho detto vabbè va è del francese sta cara non è manco dell'italiano non che ho qualcosa contro i francesi però sta cara fa poca cagata però vabbè la portiamo a termine già il secondo respawn vediamo tanto respawn un'altra volta finchè non capisco dove arriva sto cazzo de pezzi invisibili allora allora vabbè ho fatto pure la caprioletta però niente che palle ragazzi che palle me conviene respawnare un'altra volta perchè qui la macchina non si scastra non si scastra tanto me vado di sotto sicuro ok però almeno so dove arriva il pezzo invisibile ragazzi almeno sono sicuro di penso de sapere che arrivi lì il pezzo invisibile quindi vediamo 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 che cazzo si può fare mi pare che è da punto a punto sta gara quindi meno male che è da punto a punto che se no stavo fresco se dovevo rifare un'altra volta al giro vediamo 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 oh lei vai 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 no dai ragazzi a tartaruga per dio non si può fare una cosa del genere che cazzo e niente mi toccherà le spalle le è andato di sotto anche lui e bravo ma bravo vediamo vediamo ora la do è una bottarella quasi quasi ho mutato da sotto e via ma vabbè dai faccio il corretto ecco che vado da sotto pure io ecco che vado da sotto madonna il brutto ragazzi è che comunque questi pezzi sono invisibili quindi non si vedono che cazzo però dai ah vedi mi sono ripreso mi sono riuscito a ripiare mi sono riuscito a ripiare zitti zitti vediamo andiamo avanti oddio potrei passare di qua perché tanto il checkpoint sta laggiù però non lo so magari sta rialzato vabbè va passiamo qui va no infatti sta laggiù eh so esploso so esploso non ho preso il checkpoint rosico eh no l'ho preso l'ho preso guarda una botta di culo però l'ho preso però sembrava che non l'avessi che cazzo è qui che non l'avessi preso il checkpoint ok perfetto ma perfetto un cazzo sono andato di sotto come un cosa riproviamo ci accostiamo qui belli belli cargiullini di sotto un'altra volta che palle sti turbi ragazzi che palle comunque il nome della gara io lo lascio diciamo nel titolo del video quindi di sotto un'altra volta lo lascio nel titolo del video comunque si chiama parkourpanto mi pare qualcosa del genere ma se vi volete un po' impazziti fatevela a sta gara tanto la trovate sul social club basta che inserite il nome comunque ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta che cazzo è qui i tubi ma che ha fatto questo c'era una fessura no mi sa che inserite ah si si è passata si è passata era l'unico buco possibile però si è esploso che palle però ragazzi ogni ogni 2 metri si è esploso ma se non altro però bucio di culo mi dice sempre che più gli c'è point eh beh questo proprio ci voleva era il top questa vabbè però questo non era tanto difficile dai basta passare una ruota di qua una ruota di là questo è tranquillo tranquillo quindi se può fare andiamo avanti ragazzi già mi sento la vittoria in mano mi sento la vittoria in mano speriamo 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 vediamo 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 andiamo avanti oddio dovrei stare vicino all'arrivo se non sbaglio che cazzo è ecco come ho fatto si comunque in teoria dovrei stare vicino all'arrivo vediamo ce la facciamo tutta quanta bella bella liscia liscia qualcuno ha quittato eh ma sto palo che cazzo porca troia eh come impuntarsi ad un palo ragazzi con la panto come impuntarsi esempio pratico vediamo sappiamo pure questo cerchiamo di rallentare eh ok quello l'hiamo schivato rallentiamo se no me ne vado nell'acqua qui sembra facile facile ma no non lo è non morire non morire che cazzo ha fatto questo sto intreccio ma è buono buono c'è poi intastati qua se passavo da stare tra parte facevo prima però vabbè vabbè tutto sommato è andata bene come è andata che è qui l'ombricone sembra l'ombricone sta cosa c'è presenti i lombrichi che si muovono quando cammino che si chiudono a gobba che si chiudono a gobba ragazzi posso sentire o comunque me sa che sono arrivato che sono arrivato che sono arrivato non mi dico che devo fare un altro giro a me pare che era da punto a punto eh però questo è lo stesso posto di prima ah no ecco se va di qua se va di qua andiamo avanti ah guanti mi strappato la cappottina sono arrivato ragazzi sono arrivato primo niente ragazzi il video finisce qui la gara è finita qui un saluto a tutti al prossimo video ciao